Quali sono le carte da avere nel secondo set di One Piece? Cosa servirà agli aspiranti re dei pirati per competere al meglio dopo la data di uscita di questo nuovo capitolo? E quale leader richiederà più elementi per potersela giocare al meglio? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ci avviciniamo alla data di uscita dell'OP02 e con essa ci saranno novità che andranno a stravolgere il meta che tutti noi siamo stati abituati a giocare nel primo atto del TCG di One Piece. Con il nuovo colore che andrà a rappresentare la marina militare, il nero, otto nuovi personaggi scenderanno in campo come leader, tra i quali nomi spiccheranno quelli di Barba Bianca, Garp, Sanji, Ivankov e Magellan. In più, inclusi questi ultimi, 121 nuove carte si presenteranno ai cancelli di partenza, pronte per essere giocate in sfide sempre più avvincenti e mozzafiato. E a proposito di ciò, con l'ascesa dello 0-2, nuovi mazzi prenderanno forma ed altri provenienti dal set precedente verranno potenziati attraverso determinati elementi che si potranno trovare nei booster pack a disposizione di tutti i giocatori. Ma quali saranno queste carte così fondamentali da avere necessariamente a propria disposizione? In questo contenuto, grazie anche al supporto di Mir Corco, membro del team Soul King TCG, link in descrizione, andremo ad analizzare per colore quei character, event o stage che rappresenteranno un pilastro portante non da poco per la realizzazione o il potenziamento di un deck da giocare in Paramount War. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le carte da avere assolutamente nell'OP02. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal colore rosso, il quale offrirà due opzioni davvero interessanti da impiegare, rappresentate dai leader, Barba Bianca e il celebre Zoro. Il capitano dell'omonima Churma, se giocato, vedrà praticamente tutte le carte presenti in questo set essere prese in considerazione, partendo ovviamente dalla controparte character, passando per Ace, concludendo con Marco. Altrettanto importanti saranno gli event, come Sea Quake, White Bear Pirates e You May Be a Fool, But I Still Love You e la carta stage Moby Dick. Per il resto ci saranno elementi che potranno essere reperiti facilmente, sia attraverso degli scambi che acquistandoli a prezzi molto contenuti. Per Zoro invece, oltre alla presenza obbligatoria anche qui di Barba Bianca Character, ci saranno le partecipazioni di Curly Dadan, Machino e Magra, più tutta la base presente nel primo set. Quindi, in fin dei conti, se avrete giocato lo spadaccino nel primo atto del gioco, potenziarlo vi costerà giusto quel che servirà per reperire le quattro copie del possessore del frutto, Gura Gura. Per il verde, se giocherete Kinemon Leader, di largo utilizzo in alcuni tornei asiatici, di certo la Yamato Rara e la coppia Kozuki Oden e Kozuki Toki saranno le carte principali da reperire. A parte queste, tutte le altre saranno praticamente di scarso rilievo. Il blu vedrà invece un discreto impiego di forze, soprattutto se vorrete utilizzare Ivankov come leader. Niente paura comunque, dato che le più impegnative da recuperare saranno lo stesso Ivankov lato Character e il Luffy a costo 6. Per chi invece si porterà dietro la passione per il Doffi, la controparte a costo 1 e Bartolo Myukuma forniranno quel poco di forze fresche che male non faranno per potenziare il deck del Fenicottero. Parlando del Viola invece, potrete trovare carte di rarità minima per dare un tocco di innovazione a Kaido aggiornandolo da OP01 ad OP02. come ad esempio Domino, Bullet a costo 5 e Shiryu e gli event Hall's Judgment, Hydra e Venom's Road. Mentre se vorrete giocare Magellan, avrete bisogno dello stesso Magellan Character che non sarà difficile da trovare sia in commercio che nei booster packs le varie carte che interagiranno con esso ed il suo tratto ad esempio Minotaur, Hanyabal e Last Age Impel Down più ovviamente tutte le carte già menzionate per Kaido che si sposeranno perfettamente anche con le dinamiche di gioco della guardia carceraria. Ed infine, per il nero, saranno presenti ingenti quantità di elementi da utilizzare. Con Paramount arriverà anche lo starter della Marina che fornirà una buona base di partenza per tutti i curiosi grazie alla comparsa di Sakazuki Leader, Smoker Character e la stage Marineford. Mentre per la 02 ci saranno le presenze di Smoker Leader, Kuzan sia Secret che SR, Borsalino, Akainu, Garp, Rosinate, Edina e l'arrivo anche degli event Ice Age, Yasakani, Sacred Jewel e Meteor Vulcano che potrete trovare a partire, lo ripetiamo, dal 10 marzo in ogni box e booster pack presenti nella War. Quindi detto in parole povere sarà praticamente tutto utile dato che questa tonalità verrà introdotta proprio in questo set. Quindi qualsiasi cosa vi capiterà a tiro mettetelo da parte per la costruzione di un mazzo sia se sceglierete di vestire i panni dell'ammiraglio supremo della Marina che del Fumoso. Per i leader bicolore invece regolatevi sul reperire tutte le carte precedentemente menzionate più altri elementi provenienti dall'OP01 per testare delle profile che vedranno questi campioni farla da padrona. Ad esempio giocare un Sanji che farà dell'utilizzo di character senza effetto un punto di forza risulterà piuttosto interessante quindi a seconda dell'abilità regolatevi di conseguenza. Prima di concludere ci tenevo a ringraziare nuovamente Mircorco e il suo team aggiungendo inoltre una nozione non da tacere. Per tutte le carte trattate in questo video consiglio il playset ovvero 4 copie dello stesso elemento così da avere sempre a disposizione tutto ciò che vi servirà per attuare dei cambiamenti in corso d'opera e quindi testare diverse liste trovando infine quella che farà più al caso vostro. E voi quale colore sceglierete di utilizzare in Panaman War? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video.